Ehi, salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo punto end con Apple Zane Oggi vi spiegherò cos'è il Black Friday e come acquistare prodotti scontati in questi giorni Andiamo a scoprire insieme come si fa Attenzione, prima di iniziare il video andate su Instagram e seguitemi su Mirko-Zane Ogni giorno tante novità Allora ragazzi, intanto vi spiego cos'è il Black Friday Il Black Friday, ovvero letteralmente venerdì nero, è l'ultimo venerdì del mese di novembre Ma cos'ha di speciale questa giornata così importante nominata da tantissimi anni in tutto il mondo? Inizio comunque dicendovi che il Black Friday nasce in America Sì, perché è un'usanza americana Ovvero il giorno del Black Friday, ripeto, l'ultimo venerdì del mese di ogni anno a novembre Ogni negozio che sia fisico e che sia online sconta tantissimi prodotti In modo tale da permettere agli utenti di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi più bassi Ed ovviamente svuotare i magazzini Quest'usanza è stata comunque tramandata di generazione in generazione ovviamente in America E come tutte le feste americane è trapassata anche in Europa Ed ecco perché in Italia e non solo adesso si festeggia tra virgolette il Black Friday Ci sono tantissimi siti che fanno scontistiche Io personalmente in questi giorni sponsorizzerò tantissimi siti anche che vendono iPhone, iPad eccetera eccetera Vi lascio ovviamente tutti i link qui sotto in descrizione Ma soprattutto ragazzi c'è Amazon Amazon ragazzi io ve lo lascio qui sotto in descrizione a stampatello scritto Black Friday Amazon Qui sotto in descrizione perché ragazzi tramite il link che vi ho postato Riuscirete ad acquistare tantissimi prodotti per un'intera settimana Alvero dal 20 di novembre fino al 24 di novembre Oggi siamo 22 quindi già due giorni sono passati Ma l'ho visto dopo questa cosa di Amazon L'ho vista dopo quindi ve la comunico due giorni dopo Ma ancora per ben due giorni Ovvero oggi, domani e dopodomani Oggi già è quasi finito quindi domani e dopodomani ci saranno tantissimi sconti Ovviamente giorno 24 che è il giorno più clou della settimana Ovvero il Black Friday ci saranno i maggiori sconti Ma in questi giorni già si possono trovare tantissime novità Ci sono tablet scontati, ci sono accessori per la casa, ci sono accessori per smartphone Cavi, custodie, cuffie, caricatori esterni, power bank, treppiedi, borse, collane, gioielli e tanto tanto altro Che tu sia maschio o sia femmina non importa perché troverai su Amazon tramite il link che vi ricordo qui sotto in descrizione Ogni cosa possibile e immaginabile scontata Io ragazzi vi invito ad approfittare di questi giorni Io ne approfitterò sperando di acquistare qualcosa Ovviamente ci sono anche giochi per PlayStation 4, per PlayStation 3, joypad scontati Ragazzi di tutto, casse Io praticamente qualsiasi cosa dica in questo momento ci sarà lì all'interno del Black Friday in questi giorni Quindi ragazzi io vi invito cortesemente ad andare qui sotto nel link a cliccare Perché veramente ragazzi c'è da scoprire un mondo intero di sconti E onestamente non voglio che perdiate questa opportunità perché ci sono davvero tantissime cose da scoprire e da poter acquistare Riempitevi il carrello di roba ragazzi e fatelo Anche perché di per sé Amazon è già un sito che comunque sconta tantissimi prodotti ogni giorno Immaginate durante il Black Friday dove ci sono sconti anche del 50, 60, 70% Onestamente ne vale davvero la pena Tra l'altro ragazzi vi lascio qui sotto in descrizione Anzi lo dico sottovoce I miei tre prodotti preferiti di questo Black Friday ragazzi Io non ve l'ho detto Io non ve l'ho detto Prezzi scontati Io non ve l'ho detto Non ve l'ho detto Ragazzi il mio era un breve video Io come al solito vi saluto Vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video Vi invito come sempre a cliccare qui sotto in descrizione Perché c'è ovviamente il link dedicato su Amazon per gli acquisti del Black Friday Arriviamo a 100 mi piace per il prossimo episodio Iscrivetevi e commentate Ci vediamo al prossimo appuntamento Siamo qui con Mirko per AppleZain.net E ciao! Vuoi rimanere sempre aggiornato sul mondo Apple? Scarica la nostra app La trovi qui sotto in descrizione Grazie ad AppleZain.net Puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon Ed il link lo trovi qui sotto in descrizione O sotto al logo del nostro sito AppleZain.net Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.